Amagnà, mai c'è l'altro dia, amagnà, mai c'è l'altro dia, amagnà. Su milioni di persone scegli fare i fumo, corse al riparo e su ogni storia. C'è l'altro dia, l'altro dia, amagnà, mai c'è l'altro dia, amagnà, mai c'è l'altro dia, amagnà. O senza la toga, conta più che l'avelina non pipi, che la mafia vinca più partite di pipi. Confessa che ho visto smifare insieme a questa, hai scoperto l'acqua calda e vanti un tunnel a neve. Benvenuti a Fashion House. Se non ci fossero quelli che rischiano, che fine faremmo? Se volete la risposta, non vi resta che aspettare ad ottobre, quando uscirà il film Wall Street 2, Il denaro non dorme, ama. Dopo otto anni, Gordon esce di prigione e non trova nessuno. Morto doverdosi il figlio, assente la figlia, che è la classica ragazza per bene, e interdetta l'attività finanziaria. Così decide di scrivere un libro biografico. Adesso basta, andatevelo a vedere. Volete sapere qual è il taglio più cool del momento? Il caschetto beyond effetto frisee della regina del pop Lady Gaga. Ma starà bene proprio a tutti? Non molto alla diva di Sex and the City, ancora meno alla giovanissima Scalda e Johansson. E sugli uomini? No comment. Benvenuti a Fashion House. Che ti passa per la testa? Tanto di cappello alle blogger che lo usano di paglia. Tra red carpet e backstage abbiamo scoperto quale sarà la tendenza della primavera estate 2011. Pronti per un tanel deserto? Che ti passa per oggi? Sto portando G-Star jacket e pantone. E il mio t-shirt è Prince Beast. Mi piace un G-Star shirt, è fantastico, è raro e blu. Mi piace raro e blu. Mi aspettavo di essere scocato. Mi aspettavo di essere... Nel 2011 non scordate di mettervi la cintura. Michael Kors la mette su tutto. Inspiration of the collection? It was definitely based on my two homes, my apartment in New York where I have an incredible terrace. Nine o'clock. Colazione con Tory Burch. So what has inspired the collection? The idea of elegant sport team, just elegant sportswear. Iba Color is amazing, I love the way she presents her clothes. West Coast style. I festival di musica rock e i paesaggi del deserto californiano inspirano la collezione vintage Diesel Black Gold. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.